La serie videoludica che Telltale dedica a Game of Thrones, pronta a concludersi con il sesto episodio, proprio a ridosso della nuova stagione del serial televisivo. Dopo un esordio non proprio eccezionale ed un discreto recupero con Iron from Ice, arriva The Sword in the Darkness, a portare avanti le tormentate vicende della famiglia Forrester. Continuano ad essere quattro i protagonisti di cui seguiamo le gesta in Game of Thrones, schizzando da King's Landing ad Ironrath. Finalmente il team tira le redini del racconto, riuscendo a farci percepire quanto le azioni di tutti i membri della famiglia siano in verità intrecciate. Asher ha il compito di trovare un esercito di mercenari e condurlo a difesa delle sue roccaforti, ma Mira deve trovare necessariamente i fondi con cui pagare i soldati, mescolandosi con gli intrighi di corte ad approdo del re. Nel frattempo il lord caduto, Rodrik lo Storpio, deve sopportare le angherie del casato rivale. Gli uomini degli White Hill si sono insediati all'interno delle sue mura, pronti a schernirlo e deriderlo, ma innescare ad esso una reazione in nome del proprio orgoglio segnerebbe l'annientamento definitivo della famiglia. La consapevolezza sempre più marcata di tutti questi meccanismi rende alcune sequenze del racconto molto tese. Il giocatore avverte il peso delle proprie scelte, l'urgenza di agire con circospezione e di non sbagliare. La consapevolezza che una parola fuori posto può segnare una nuova tragedia come quella legata alla morte di Ethan. Telltale è insomma abilissima nel dare all'utente l'illusione che i suoi comportamenti influenzino davvero l'andamento delle cose, ed è forse questo il motivo del successo di questo episodio. Resta vero che per apprezzare fino in fondo l'adattamento videoludico di Game of Thrones bisogna sapersi godere i ritmi tipici della narrazione di Martin, che resta molto politica e psicologica e riduce le sequenze più movimentate. In questo terzo episodio ce ne sono giusto un paio. La prima nei panni di Asher ci metterà di fronte niente meno che a uno dei draghi di Daenerys. L'altra la giocheremo invece interpretando Garred Tatl, confinato tra i guardiani della notte. La sua resta la linea narrativa per il momento più slegata dalle altre. Per fortuna anche in questo caso una piccola selezione di personaggi ben caratterizzati riesce a replicare le stesse alchimie legate alle geste televisive di Jon Snow. La speranza è quella che anche l'apporto di Garred possa infine risultare determinante per la famiglia Forrester, o almeno raccontarci qualcosa di più del mondo al di là della barriera. Fermi restando i difetti ormai conclamati della serie, tra cui un comparto grafico deludente, scenografie povere e la natura spiccatamente narrativa e poco ludica, The Sword in the Darkness è un episodio ben riuscito. Mentre si aspetta il verificarsi degli eventi che hanno scandito la quarta stagione televisiva, i protagonisti costruiti dagli sceneggiatori di Telltale riescono a tenere la scena, intrecciando le loro storie e le loro azioni. Nonostante permanga qualche dubbio sull'influenza che le scelte del giocatore avranno sulla lunga distanza, Telltale è maestra nel farcele pesare sul momento, usandole per costellare una narrazione finalmente ben scandita e autonoma. Un bel colpo di reni, nella speranza che tutto si tenga anche nei prossimi episodi.